Cinque anni tutti nello stesso campo e stavolta non è quello da basket, si chiama così uno dei progetti sostenuti da Aquilab Forno Profit. È un piacere solo starci a godere del sole, del paesaggio e dei profumi, ma trovano anche soddisfazione e amicizia agli utenti della cooperativa sociale La Rete coinvolti nei progetti di agricoltura sociale all'azienda Mario Leonardi a Seregnano, frazione di Civezzano. Ciascuno, secondo le sue capacità, aiutano a coltivare e confezionare piante officinali, dalle quali si ricavano prodotti che poi vengono venduti sul mercato solidale, acquistabili anche attraverso il sito internet della cooperativa La Rete. Nel 2022 l'incontro con Aquilabasket Forno Profit è un'asta di canotte da gioco che ha contribuito, assieme a Netafime Tecno Impianti, a finanziare un impianto di irrigazione a goccia che renderà il progetto, tutti nello stesso campo, ancora più efficace. Noi qui ospitiamo all'incirca una ventina di persone spalmate su tre giorni alla settimana, quindi ogni giorno ce ne sono almeno dieci. Ognuno ha la sua specializzazione, cioè chi è più, come dire, attirato dal lavoro dei campi e quindi lavora direttamente con le mani nella terra e chi invece è più, diciamo, dedico alla parte della trasformazione e quindi, diciamo, dopo la raccolta dei prodotti, gli fa l'essicazione piuttosto che il confezionamento e prepara tutti i prodotti che poi noi vendiamo. Riesce a sostenersi o in che percentuale ce la fa? Allora, la sfida è proprio questa. Ha avuto un finanziamento iniziale di Fondazione Caritro, che ringraziamo, il Comune di Trento che finanzia la parte educativa degli educatori con le persone con disabilità, le famiglie hanno una compartecipazione alla spesa, il resto è dato dalla vente dei prodotti e dai partner che stiamo cercando più possibile di allargare. Il tutto è arrivato con l'iniziativa dell'Air Day di due anni fa, con la raccolta fondi che è stata fatta con la giornata dell'Air Day, ha dato la possibilità di creare un primo fondo da poter utilizzare per la realizzazione dell'impianto.